Buongiorno a tutti, cominciamo la giornata di Erna con questa sessione sull'esito delle PMA. Modera assieme a me il dottor Mattei, che arriverà a brevissimo, e la prima relazione tenuta dalla professoressa Eleonora Porco, guerra all'obesità nel concepimento naturale e assistito. Grazie Eleonora. Grazie Renato, grazie ad Andrea, 20 anni, sono stati veramente occasioni ripetute di confronto, estremamente proficuo dal punto di vista scientifico e anche estremamente divertente. Ieri sera abbiamo fatto una discussione con Filippo e Andrea, anche animata sugli stili con cui condiciamo le nostre attività di fecondazione assistita, ripromettendoci di approfondirli perché credo che sia davvero fondamentale, essenziale, incontrarsi, scontrarsi e poi produrre un'opinione condivisa su almeno alcune cose basilari del nostro mestiere. La guerra contro l'obesità è una guerra che io conduco, noi conduciamo, noi tutti conduciamo nel concepimento naturale ed assistito. Credo che sia sostanzialmente la prima cosa che noi cerchiamo di puntualizzare con i pazienti e con le pazienti in particolare, visto che sono loro poi che devono affrontare la gravidanza, guerra contro l'obesità che è qualcosa di epico, veramente difficilissimo, è uno dei principali problemi della salute pubblica. Certamente in Italia non abbiamo questo tipo di obesità, abbastanza più tipicamente americane, sopra i 300 kg, ma ugualmente c'è una notevolissima influenza dell'anche semplice sovrappeso sull'aspetto della fertilità. L'obesità in generale è una vera e propria malattia, è praticamente molto diffusa nei paesi occidentali, è un fattore di rischio per diabete, malattie cardiovascolari, anche neoplasie e è uno dei fattori proprio di mortalità. Si misura, come sappiamo, col body mass index, quindi utilizzando l'altezza e il peso e ottenendo alla fine un indice che ci dice se siamo sottopeso, normopeso, sovrappeso o obesi. E con anche tre tipi di obesità, obesità uno, due, tre, a seconda della gravità. E i cittadini in Italia obesi sono alcuni milioni, anche se alla fine, guardando, vorrei farvi vedere, nel mondo questa è l'obesità femminile diffusa, questa è l'obesità maschile, soprattutto nei paesi di origine anglosassone, in Italia alla fine siamo più virtuosi degli altri paesi, perché ci collochiamo in un'area in cui l'incidenza dell'obesità vera, grave, è inferiore a quella della, addirittura, buona parte dei paesi europei. In ogni caso, anche se più del 50% della popolazione è normopeso, ci sono poi sovrappeso e un 10-11% di obesi. Quindi alla fine diciamo che 4 italiani su 10 presentano un po', tanto o poco, grasso in eccesso, più nella popolazione maschile che nella popolazione femminile. Ingrassare sembra sia contagioso tra i coniugi, questa è una cosa veramente interessante, cioè sembra che accoppiarsi alla fine, in qualche modo, se uno dei coniugi è un po' sovrappeso, possa in qualche modo coinvolgere l'altro coniuge e addirittura le donne che hanno una relazione stabile per più di un anno hanno un'incidenza di obesità in aumento, per relazioni superiori a due anni è ancora peggio e gli uomini, una relazione stabile per più di un anno, hanno un'incidenza di obesità con un'oddrascio di 2.4. Quindi sembra che ci sia paradossalmente, invece che aiutarsi a stare in forma, un aiutarsi a scivolare in questa direzione. Sappiamo bene che l'obesità dà disfunzioni endocrine, cambiamenti endocrini, cambiamenti metabolici, cambiamenti del tessuto adiposo stesso perché c'è un autoincremento, disfunzioni anche psicologiche, psichiatriche e disfunzioni cardiovascolari, cambiamenti endocrini che coinvolgono l'SHBG, il testosterone, l'ormone della crescita e tante altre variabili. E scendendo specificamente nella nostra settore, la salute riproduttiva è pesantemente gravata dall'obesità, che può portare ad aborti, infezioni, tromboembolia, diminuzione dell'efficacia dei trattamenti di PMA, diabete gestazionale, parto pretermine, rischio di parto operativo, ipertensione gestazionale, pretermine, quindi è effettivamente l'origine di una serie di mali importanti e di medicalizzazione di una condizione che in realtà è fisiologica come la gravidanza. I rischi associati, come vedete, sono appunto sia nell'inizio della gravidanza, sia nella gravidanza più avanzata, sia nel periodo periparto e neonatale. Addirittura c'è la possibilità, come sappiamo ormai da tanto tempo, di indurre, condizionare anche il nostro bambino ad avere un'obesità neonatale infantile e quindi essere un predestinato di questa condizione. Quindi pensiamo alla fine anche al problema estremo delle malformazioni. Secondo alcuni studi ci sono un aumentato incidenza di malformazioni fetali associati a sovrappeso ed obesità. E nel maschio, oltre che nella donna, l'obesità può indurre attraverso meccanismi di feedback addirittura un ipogonadismo ipogonodotropo e una diminuzione degli spermatozoi secondo diversi studi. E sulla fecondazione assistita, quindi quando noi cerchiamo di aiutare il concepimento con la medicina, ci possono essere una serie, vedete, di effetti negativi perché è più difficile fare l'ecografia, abbiamo tutto questo grasso e dura di più la stimolazione, ci vogliono più gonadotropine, vedremo che anche i nostri dati confermano questa serie di impasse a cui si va incontro con l'obesità. E addirittura c'è anche un condizionamento della recittività endometriale e si pensa che addirittura ci possa essere una decidualizzazione precoce dell'endometrio, una riduzione della finestra di impianto. Quindi, alla fine, avere chili in più, grasso in più, sembra peggiorare i risultati della fecondazione in vitro, aumentando la dose di gonadotropine nei giorni di stimolazione, riducendo il numero di ovociti recuperati, addirittura riducendo il tasso di nascita di bambini vivi, sani e normali. Quindi, questo ha portato in diverse società a mettere dei limiti all'accesso della fecondazione assistita a seconda del peso. La SRM dà indicazioni di ottimizzare il peso materno prima di intraprendere la gravidanza spontanea assistita. In Nuova Zelanda sono vietati trattamenti su un body mass index superiore a 35. Il NAS non vieta ma sconsiglia la gravidanza a un body mass index sopra a 30. In Scozia c'è anche qui il divieto di PMA in donne con body mass index superiore a 30. In Italia non abbiamo un divieto assoluto, però i diversi centri si regolano. Noi siamo uno di quelli che da tempo veramente oramai immemorabile abbiamo messo un limite assoluto di body mass index per l'accesso, che è tutto sommato anche un po' largo perché è 32 ma lo stiamo programmando di restringerlo a 30 perché comunque anche 32 è effettivamente elevato. L'abbiamo messo a 32 perché il nostro provvedimento è stato così impopolare che le persone si sentivano discriminate, tutte queste cose che sono alla fine sciocchezze sostanzialmente. E la prevenzione, counseling prima del concepimento, ovviamente, stili di vita, counseling nutrizionale, acido folico, cercare in tutti i modi di essere incoraggiate a trovare il peso corporeo. Noi diamo dei consigli dietetici, facciamo fare consulenze dietetiche e consulenze psicologiche perché indubbiamente affrontare una dieta è una cosa estremamente pesante. La metanasi di otto studi dice che intervenendo in epoca preconcezionale si assiste a un miglioramento degli outcome ostetici e fetali quando si riesce a fare dieta ed esercizio fisico. Noi, come vi dicevo, tra i criteri proprio di esclusione dall'ingresso nella nostra struttura c'è quello del Body Mass Index che è superiore a 32. Le nostre pazienti, come sono distribuite quelle che afferiscono al nostro centro come Body Mass Index? Beh, abbiamo una buona percentuale, devo dire, di donne con peso normale, normo peso. Qualcuna sotto peso, abbiamo qualche ex anoressica, qualche persona che insomma ha un peso non ottimale, anche questo come sapete in ogni caso influisce sulla riproduzione. Sovrappeso abbiamo un 16-17% di franca obesità, tenendo presente però sempre non superiore a 32, proprio perché noi abbiamo messo questo limite, un 4,5%. I nostri uomini come sono? Ah beh, sono molto peggio, devo dire, perché sotto peso ce ne sono pochi, c'è un 1%, e normo peso 43%, sovrappeso il 46% e obesi 10%. Quindi vedete che se noi andiamo a confrontare gli uomini con le donne, normo peso sono molto di meno delle donne, sovrappeso sono molto di più e obesi circa il doppio. Quindi è interessante rilevare come chi afferisce a un centro di feconduzione assistita, di fertilità, che cerca un bambino abbia una prevalenza, almeno dal nostro punto di osservazione, di sovrappeso maschile. E se andiamo a confrontare con la popolazione generale i nostri dati, possiamo vedere come tutto sommato, per quel che riguarda le donne sono in una condizione migliore della popolazione generale, da un punto di vista del normo peso, mentre gli uomini sono in una condizione inferiore alla popolazione generale, sono un po' meno normo peso rispetto alla popolazione generale, e viceversa sono più sovrappeso della popolazione generale e più o meno si assestano sul livello di obesità con la popolazione generale. Mentre, come abbiamo visto, le donne tutto sommato sono più virtuose nel momento in cui cercano una gravidanza. L'obesità come si corrella all'età? Naturalmente, beh, questo è, tutti quanti noi non più adolescenti abbiamo constatato che l'età porta con sé una tendenza all'aumento di peso, e infatti vedete come ci sia progressivamente un aumento del body mass index con l'aumentare dell'età, soprattutto nel nucleo di popolazione un pochino più vasta che quella tra i 35 e i 39 anni, c'è questo deciso aumento del pannicolo adiposo. Per quel che riguarda i maschi, gli uomini, c'è proprio una curva trionfale, una progressione davvero esponenziale nell'aumento del peso con l'aumentare dell'età dopo i 40 anni, è proprio un po' un disastro. E se andiamo a vedere i parametri seminali dei nostri partner maschili correlati con il body mass index vediamo che all'aumentare dell'indice di peso corporeo peggiorano dei parametri come gli spermatozoi, numero di spermatozoi totali, la motilità totale e anche la morfologia peggiora. Quindi si tratta di condizioni che hanno un riflesso ben preciso sulla potenziale fertilità. I risultati in accordo con età e valori del body mass index, body mass index delle pazienti e l'età divisa in prima e dopo i 35 anni, vediamo come progressivamente con il crescere del body mass index aumentano i giorni di stimolazione ed effettivamente noi lo constatiamo. È anche un fatto proprio di distribuzione dei farmaci. Vedete come le unità di gonotropine aumentano nettamente, è chiaro che sono di più nelle persone con più anni rispetto alle persone con meno anni, quindi prima e dopo i 35 anni, però la curva è la stessa, cioè aumentando la quantità di grasso e aumentando il body mass index aumenta il consumo. Quindi ce n'è bisogno di più, c'è complessivamente un'area tissutale nel quale si devono distribuire le gonotropine per poter poi alla fine esercitare la loro funzione. I cicli sospesi anche questi aumentano, naturalmente sempre con una differenza di età, ma aumentano con l'aumentare del peso corporeo e diminuiscono gli ovociti recuperati, anche qui chiaramente ne prendiamo di più nella donna più giovane che nella donna più anziana, ma di fatto comunque ne prendiamo di meno se il peso aumenta. Andiamo a vedere quello che la letteratura dice. Beh, noi non abbiamo constatato invece, guardando l'esito finale, la gravidanza, una netta tendenza alla riduzione della percentuale di gravidanza con l'aumento del peso. Come dire, che alla fine, nonostante tutti i parametri alterati che abbiamo visto fino adesso, la gravidanza non sembra essere un parametro almeno significativamente molto alterato, non sono significativi questi dati, così come anche l'aborto. Andiamo a vedere a questo punto casi estremi nei quali ci dobbiamo concentrare di più. Vengono da noi due, una coppia con due persone, maschi e femminili, tutte e due obesi o sovrappeso. Qual è la loro incidenza? Beh, entrambi normo peso è circa il 35%, entrambi sovrappeso un 9-10%, entrambi obesi un 2%. E se abbiamo pazienti coppie nelle quali tutti e due i partner sono normo peso oppure sono obesi, c'è differenza? Beh, sì, negli ovociti recuperati abbiamo trovato una differenza significativa, ne prendono di meno le coppie obese, gli espermatozoi, scusate, gli embrioni trasferiti di grado elevato sono inferiori così come gli espermatozoi e le gravidanze in questo caso sì, ci vengono significativamente inferiori, sia la gravidanza per transfer che l'implantation rate. E questo nelle pazienti, tenendo presente la figura femminile, le pazienti relativamente giovani, nelle pazienti meno giovani ugualmente c'è una ridotta percentuale di embrioni di grado 1-2 e un'alterazione dei parametri seminali e anche qui c'è una migliore gravidanza nelle pazienti normo peso, incidenza di gravidanza rispetto alle pazienti sotto peso. Che cosa dire delle malformazioni? Beh, anche qui come nelle gravidanze noi non abbiamo trovato una conferma assoluta dell'aumentata incidenza di feti malformati, di bambini malformati a seconda dell'obesità. Sicuramente, apparentemente, in altri malformati sono inferiori nelle persone sotto peso, ma per il resto si allineano un po', almeno nei nostri dati. Quindi consideriamo però sempre che noi le obesità estreme non le prendiamo, non le facciamo accedere, quindi probabilmente la differenza è legata anche al fatto che noi comunque abbiamo messo un argine ab inizio. Credo che tutte queste documentazioni spingano perché anche in Italia ci sia una sorta di normativa condivisa tra i centri per l'indice di massa corporea, l'indice di sovrappeso e di obesità che può accedere a un trattamento di fecondazione assistita. Vi ricordo che i decessi, pochi fortunatamente, ai quali abbiamo assistito in Italia, in particolare quello più recente, estremamente doloroso, era in una donna obesa. donna obesa che quindi ha avuto tutta una serie di difficoltà ulteriori alla gestione anche dell'anestesia, eccetera, per cui alla fine c'è stato l'exitus. Quindi è uno dei fattori che noi dobbiamo combattere mettendoci di traverso in assoluto e raggiungendo un consensus che ci accomuni tutti. Vi ringrazio. Facciamo la discussione dopo ogni relazione. Ci sono domande o dall'aula o anche, non so se... Io, Andrea. Andrea, Andrea Bolini, prego Andrea. Dunque, Leonora, io anch'io combatto questa cosa del BMI A30. I miei colleghi in Tecnobio sono inflessibili. Io invece ho un pochettino di turbamenti su questo, perché penso che tu hai giustamente detto che queste pazienti si sentivano discriminate. effettivamente è così, perché finché la nostra società non dirà che ha una coppia che ha un figlio spontaneamente e lei ha 35, non gli tbmi e non gli paga l'assistenza ostetrica e neonatale, come fanno ad esempio nei paesi anglosassoni, no? Sopra a un certo peso le assicurazioni non pagano più. Il nostro servizio internazionale questo non lo fa. Se uno rimane gravida spontaneamente, sono cavoli dei medici, chiamiamolo quello che vi pare, però nell'assistenza ostetrica e neonatale, che è potenzialmente l'unica cosa che ci preoccupa molto. I tuoi dati sono molto chiari. Un po' di gonadotropine in più non sono certamente un problema. Un po' di ovociti in meno, forse perché a volte chi fa il pick-up si impressiona, è un po' più difficile. Però insomma, diciamo che concettualmente, peraltro queste sono donne con una sindrome metabolica, quindi con un ovaio policistico, spesso e volentieri, che dovrebbero avere più ovociti, ma le ovaie sono più difficilmente raggiungibili. Detto questo, come facciamo ad avere una consensus su un numero che è diverso, ad esempio, dagli australiani? L'Australiana ha preso 35 perché ci sono i grandi obesi, quindi non farebbero nessuno. Cioè, come facciamo ad avere un parametro dove stabiliamo che noi non gli diamo assistenza? Se diamo assistenza a chi, semmai, se prende un partner con un campione seminario nella norma, può far figli spontaneamente? Andrea, io credo che sia perché comunque, come per tutte le altre cose, la gravidanza indotta è qualcosa nella quale noi partecipiamo e siamo eventualmente correi. Cioè, qualunque complicanza accada e purtroppo, come ho citato alla fine della mia relazione, l'obesità peggiora tutto, noi siamo compartecipi di una condizione patologica che consapevolmente siamo andati ad affrontare. Per cui io sono d'accordo con te sulla difficoltà di trovare un confine. Io ho fatto 32 proprio per non discriminare quelle più borderline che sono un po' più frequenti. Tenderei a scendere ulteriormente a 30 perché in realtà 32 è veramente già un po' di ciccioneria non indifferente. Ritengo che sia un diritto, un dovere della medicina nel momento in cui mette piede in un ambito così privato, personale come la riproduzione, a dire io sì ti do una mano ma non ti do una mano a affrontare dei problemi importanti. Che non sono, come hai detto tu, hai visto, io un po' di conaltropine di più, un po' di ovociti di meno, eccetera. Poi alla fine la percentuale di gravidanza nei miei dati non viene alterata significativamente. Però poi tutta la gravidanza, cioè tu non è che fai un trattamento di fecondazione assistita, tu miri a indurre una gravidanza e dopo lì comincia il bello, tutta la gravidanza, cioè tu induci una gravidanza che è a rischio già dall'inizio. Quindi secondo me anche dovremmo parlarne con i colleghi ostetrici e con i colleghi pediatri che ci corrono dietro con la mazza da baseball tante volte, insomma. C'è un'altra domanda, prego Corrado. Ah scusa, no no no, guarda, perché c'è il 6 sotto il fare. Non c'è problema, ma che vai Corrado. Scusami Carlo. No, ma scherzi. Allora, il dottor Melega poi il professor Bulletti. Ciao Corrado, che bello vederti. Grazie intanto. Forse mi è sfuggito, ma volevo dire due cose. La prima è che c'è anche una maggiore, una percentuale di morti in utero che è due volte rispetto al normale nelle persone obese, esulo dalla fecondazione assistita in generale. E poi tu giustamente hai collocato l'Italia in una buona posizione, però recentemente, è uscita recentemente, un anno fa, è uscita una indagine che colloca l'Italia in una posizione critica per quello che riguarda i bambini dagli 8 ai 9 anni. E in Italia c'è una percentuale di bambini obesi in quell'età che è superiore a molte nazioni europee. Quindi io credo che nella lotta all'obesità bisogna cominciare molto prima. Non che i pediatrici corrono dietro, ma noi dobbiamo correre dietro ai pediatri, penso. Hai perfettamente ragione. Infatti... Grazie. Sì, sì, grazie, grazie a te. Facciamo anche l'osservazione di Carlo Bulletti, così puoi rispondere a tutti e due. Sì, Eleonora, mi associo all'auspicio di trovare un consenso intorno alla definizione di chi può accedere a queste cure. Quello che però osservo è semplicemente un passo indietro. In rapporto ad una morte materna molti anni fa, ho esplicitamente chiesto un parere all'ordinario di diritto penale di Firenze sul fatto che se io posso mettermi di traverso a una richiesta di accesso ai servizi pubblici, anche laddove caricata di un rischio maggiore di immorbilità e di mortalità. Questa è una cosa che in assenza di una norma, lui mi ha detto, non mi è possibile. come medico dirigente di una struttura. Cioè a dire, io allora all'epoca feci per queste donne un consenso informato ad hoc nel quale stabilivo i rischi di morbidità e di mortalità maggiori in corso di eventuale gravidanza e in corso di medicalizzazione, laddove, trombosi eccetera eccetera e fatto questo le inducevo a fare un programma di perdita di peso fino a raggiungere un diverso body mass index verificato il quale che avvenisse questo calo di peso o non avvenisse loro reiteravano la loro autodeterminazione e sulla base di quella io come direttore di una struttura complessa di una sanità pubblica non posso esimersi perché lui dice all'avvocato altrimenti io introduco una discriminazione tra due gruppi di persone e induco questa persona ad andare nel privato. Questo è un razio che ha sotteso anche molte delle sentenze della Corte Costituzionale per altre cose quindi io credo che lo sforzo debba continuare perché il problema c'è il problema va risolto e probabilmente nella direzione che tu dici ho qualche perplessità sulla base del parere che avevo chiesto sul fatto che ciascuno di noi possa fare un divieto nel proprio orto finché il paese non fa una norma. Io posso capire, soppesare, valutare e mettere in discussione quello che hai detto tu quello che dice Andrea ma ritengo che alla fine il servizio pubblico debba coordinarsi con il servizio privato perché su queste cose non si scherza quindi non si può pensare che lo nego io e poi va nel servizio privato e il servizio privato li accoglie e dice bene io te lo faccio anche con una condizione di obesità eccetera. Per questo che dico ci vuole un consenso tra pubblico e privato non ci può essere una differenza in questo. Ritengo che come medici noi in scienza e coscienza possiamo e dobbiamo avere la libertà di operare e di muoverci per quel che non possa nuocere alle pazienti. Cioè è il primo comandamento della nostra professione. Io ritengo che una gravidanza in una paziente obesa sia problematica, una gravidanza indotta sia non giustificata. Questa è la mia opinione. Poi tu dici ho interpellato un giurista. Benissimo. Allora coinvolgiamo nella discussione generale e nell'elaborazione di questa cosa ovviamente anche i giuristi quindi i ginecologi, i medici della riproduzione della fertilità, gli ostetrici, i pediatri, gli psicologi, nutrizionisti e i giuristi. Facciamo un gruppo di studio a livello naturalmente dove contano queste cose che possano alla fine legiferare e fare una normativa che non sia soltanto tra società scientifiche ma che sia recepita anche a livello governativo e ministeriale. Secondo me è importantissimo, fondamentale in modo tale che tutti però cooperino, come ha detto Corrado, non è che noi stiamo attenti e poi dopo i pediatrici non tengono le redini dei bambini obesi che effettivamente stanno aumentando. Io quel poco che ho potuto fare di vacanza quest'estate ho rilevato come effettivamente i bambini spiaggia e le bambine in particolare fossero tutte un po' cicciosette. Quindi è una cosa che si vedo ormai anche ad occhio nudo. Ci sono altre domande? Avrei io una domanda, un'osservazione. La serietà ha dei limiti temporali, ce l'avete sempre detto tutti, che ovviamente si riducono con l'età della paciente. Allora il discorso dell'obesità è comprensibile, si hanno meno risultati, la gravidanza è più pericolosa, ma vengono messi in atto degli accorgimenti. C'è un programma, un percorso per queste donne per cui in breve tempo possano rientrare nel peso, perché se no è lasciare a loro la gestione di un problema che probabilmente loro faticano a gestire, perché una donna di 38 anni, 40 anni fa fatica a ridurre il proprio peso in maniera consistente in breve tempo. Però la sua fertilità si sta riducendo rapidamente. Per cui cosa è stato preparato per questi pazienti? Prima cosa. La seconda è un pochino provocatoria, invece abbiamo visto che anche i maschi sono sovrappeso e soprattutto gli obesi oltre una certa quota di body max index hanno un liquido seminale molto basso e degli embrioni di peggiore qualità. Viene detto anche ai maschi di seguire una dieta oppure viene vietato il trattamento anche alle coppie in cui il maschio è particolarmente sovrappeso. I maschi sono assolutamente sollecitati a ridurre il peso perché gli vengono detti questi dati e quindi vengono coinvolti nel successo finale del trattamento per cui non è solo la donna che deve sopportare un po' tutte quante le procedure del trattamento ma anche il calo ponderale. Quindi questo assolutamente noi lo diciamo in modo... Poi è chiaro che il limite di accesso al trattamento come body mass index l'abbiamo messo su body mass index della donna e quindi un uomo sovrappeso o dobeso non è che lo mettiamo come limite di inaccessibilità. Potrebbe anche comunque essere un altro motivo è chiaro che l'uomo non porta avanti la gravidanza quindi la nostra decisione nel limitare l'accesso a seconda del body mass index della donna è legato al fatto della gravidanza successiva però effettivamente l'uomo deve essere coinvolto e sollecitato in questo processo di dimagrimento. Poi è verissimo perdere peso certe volte è molto più difficile e vi parlo da un pulpito che figuriamoci non sono certamente credibile ma è molto temporalmente più difficile rispetto alla fertilità se siamo una donna di 40 anni obesa ci mette sei mesi a perdere un po' di tempo in quei sei mesi ha perso diversi obociti quindi Renato dice una cosa sacrosanta ma è per questo motivo che noi non è che diciamo signora dimagrisca e poi dopo ci rivediamo noi diamo un sostegno e una consulenza nutrizionale e psicologica psicologica perché come dicevo prima per affrontare una dieta devi avere anche una serie di motivazioni e di sostegno ed eventualmente anche farmacologica se è il caso quindi noi cerchiamo in tutti i modi di aiutare queste persone a affrontare un trattamento che sia meno pericoloso per loro ma in tempi ragionevoli ci sono altre domande dall'aula o dal lettere? No? Quindi grazie l'onora Dico una cosa allora la prossima relazione non verrà tenuta perché Gianluca Generari per problemi familiari non è potuto essere presente e quindi adesso prima di cedere la parola a carissimo Alberto Mattei voglio solo visto che non sono gli altri giorni so che è stato fatto ma fare un piccolo proprio un saluto al professor Carlo Flamini che è stato diciamo quello che ci ha introdotto e insegnato tutto di queste di queste tecniche delle cose che stiamo parlando oggi scusate questa digressione ma mi sentivo il dovere e anche il piacere di di farla quindi lascio la parola ad Alberto per grazie Renato e credo che l'applauso sia rivolto al professor Flamini ovviamente allora un argomento interessante un aggiornamento sul modalità e in generale credo sul crioconservazione di tessuto ovarico Raffaella Fabri per cortesia che dovrebbe coinvolgere chiaramente anche altri aspetti della patologia tipo l'endometriosi alcuni casi oncologici interessante Raffaella Fabri prego grazie buongiorno a tutti io ringrazio per questa relazione e inizierò subito sappiamo che la chemioradioterapia inducono dei danni sia a livello follicolare sia a livello del compartimento stromale dell'ovaio quindi è particolarmente importante preservare cercare di preservare la funzionalità dell'ovaio nelle pazienti che devono essere sottoposte a queste terapie oncologiche e la crioconservazione del tessuto ovarico è una di queste tecniche che ha il vantaggio di ripristinare la funzione sia gametogenica che endocrina e la caratteristica importante è che rappresenta l'unica opzione per le bambine per le pazienti prepuberi o premenarca oppure per le giovani donne che non hanno tempo di iniziare una stimolazione ovarica o che non possono essere sottoposte a stimolazione ovarica le indicazioni sono rappresentate dalla maggior parte delle patologie oncologiche che possono essere pelviche non ginecologiche o ginecologiche abbiamo ad esempio i sarcoblastomi i cancri del sacro dell'intestino oppure patologie extra pelviche come il sarcoma di Ewing il cancro della mammella della tiroide eccetera e molte delle patologie sistemiche molto importante è anche applicare questa tecnica alle pazienti che hanno patologie benigne tipo le pazienti che colpite data l'assemia devono fare un reimpianto di midollo oppure alle pazienti che hanno patologie autoimmuni che vanno incontro a rischio di fallimento ovarico precoce o che rischiano l'asportazione di un ovaio o di due ovaio brevemente la rimozione del tessuto ovarico avviene per via laparoscopica la corticale ovarica viene tagliata, sezionata in fettine che poi vengono crioconservate mediante una tecnica di congelamento lento e scongelamento rapido qual è l'applicazione? possiamo reimpiantare questo tessuto con una tecnica ortotopica cioè nella stessa sede dalla quale l'abbiamo prelevato se abbiamo l'ovaio residuo suturiamo le fettine sull'ovaio se non l'abbiamo possiamo fare delle tasche peritoneali nel quale inserire le fettine oppure possiamo fare un reimpianto eterotopico nel sottocute della parete addominale in ambedue i casi noi possiamo avere la ripresa della funzionalità endocrina nel 90-100% dei casi e la durata di questa funzionalità ovarica è molto elevata e può essere superiore addirittura ai 7-8 anni per quel che riguarda le nascite noi abbiamo dei dati del 2019 si parla di 183 nati questo dato è sicuramente sottostimato perché purtroppo non esiste un registro internazionale al quale si può accedere per comunicare le nascite quindi i centri diciamo più piccoli oppure le nascite sporadiche probabilmente non vengono segnalate comunque la percentuale di nascite per reimpianto è del 23-36% quindi un valore molto elevato molto importante è l'applicazione di questa tecnica nelle pazienti gemelle monozigoti discordanti per fallimento ovarico questi sono degli studi che risalgono al 2008 e sono stati iniziati da Silberg poi continuati anche attualmente Donet tratta queste pazienti cioè si tratta in pratica di pazienti nelle quali una gemella è fertile l'altra è andata in conto ha un fallimento ovarico quindi il tessuto o fresco o congelato può essere reimpiantato nella paziente infertile dando la possibilità anche a questa paziente di avere dei bambini poi abbiamo tutto il capitolo dell'induzione della pubertà cioè pazienti molto piccole che in età prepubere sono state sottoposte a trattamenti chemioradioterapici molto aggressivi e mediante il reimpianto o eterotopico o ortotopico vedete in questi due casi le due pazienti erano pazienti con patologia benigna o pazienti con patologia maligna è stata indotta la pubertà facendo questo reimpianto di tessuto e ancora più importante è il fatto che è stato dimostrato che reimpiantando il tessuto una volta diventate adulte in queste pazienti si possono ottenere delle gravidanze in questo caso viene riportato addirittura alla nascita di due bambini e in questo caso in particolare il tessuto era stato conservato prima della pubertà quindi questo è un segnale veramente molto importante della validità di questa tecnica soprattutto nelle pazienti molto molto piccole poi abbiamo il capitolo della sindrome di Turner allora è chiaro che questo è un capitolo che è nuovo cioè però diciamo che si sta valutando la possibilità in certe Turner con certi mosaicismi di utilizzare il congelamento del tessuto ovarico per preservare la loro funzionalità ovarica futura e la loro fertilità così come nel discorso dell'endometriosi ci sono parecchi dati sulla opportunità in alcuni casi specifici di utilizzare il prelievo e il reimpianto del tessuto ovarico anche in queste patologie un capitolo a parte è quello della diciamo terapia ormonale sostitutiva cioè utilizzare il tessuto ovarico prelevato e congelato quando la paziente è molto giovane e poi reimpiantarlo nel momento della menopausa in modo da avere un effetto di terapia anti-aging questo è risultato diciamo molto importante in uno studio americano nel quale si è visto che la menopausa ovviamente induce delle patologie legate a osteoporosi problemi cardiovascolari eccetera e in questo studio si è visto che negli ultimi 15 anni c'è stata una risalita dei costi per la cura della osteoporosi del 118% quindi l'ipotesi di proporre o di utilizzare questo tessuto prelevato in giovane età per sostituire la terapia ormonale sostitutiva quindi vale è molto valido e ancora questo è un dato riportato da un giornale inglese nel quale viene sottolineata anche da loro questa importanza e addirittura nella zona di Londra è stato già iniziato un protocollo di prelievo di tessuto nelle pazienti giovani per poi essere congelato e utilizzato in futuro e qui ci sono una serie di lavori che documentano tutto questo per quel che riguarda le pazienti oncologiche dobbiamo prendere in considerazione il rischio di una possibile contaminazione sull'ovaio della patologia da cui loro sono affette cioè l'ovaio viene recuperato prima dell'inizio del trattamento quindi ci può essere una probabile possibile contaminazione maligna nel tessuto che ho conservato e quindi quando noi lo andiamo a reintrodurre può essere effettivamente che lo reintroduciamo anche la malattia ci sono delle tecniche che possono aiutarci in tutto questo però bisogna stare particolarmente attenti in questo lavoro vediamo che sono state valutate come patologie a basso intermedio ed alto rischio di contaminazione dell'ovaio quindi noi utilizzeremo queste tecniche che sono tecniche immunistochimiche di biologia molecolare e in questo caso vorrei dare particolarmente attenzione alle leucemie questo è un caso in cui una paziente affetta da leucemie mieloide acuta dopo un protocollo di consolidamento è andata incontro a completa remissione è stato fatto il prelievo del tessuto congelato poi la paziente ha continuato la sua terapia con trapianto di midollo ed è andata incontro a POF successivamente ha richiesto il reimpianto su una parte del tessuto sono state fatte una serie di indagini istologiche la FISH altre indagini di tipo molecolare e anche lo xenotrapianto l'ovaio è risultato non contaminato la paziente ha subito il reimpianto di tessuto ed è riuscita ad avere tre bambini sani e ancora dopo cinque anni dal reimpianto questa paziente è libera dal cancro quindi questo è un caso particolare è stato il primo caso è uno dei pochissimi casi registrati però è molto importante ancora nel 2020 è stato registrato invece in una paziente con leucemia linfoblastica acuta solito consolidamento il protocollo di consolidamento completa remissione poi prelievo del tessuto ovarico POF la paziente è stata sottoposta a queste analisi immunistochimiche e molecolari siccome il tessuto non era contaminato l'hanno reimpiantato è nato un bambino però per tranquillità la paziente si è fatta asportare il tessuto che era stato reimpiantato e si è visto che il tessuto era libero da infiltrazione leucemica quindi diciamo che da questo punto di vista grandi studi dovrebbero essere effettuati per dare l'opportunità anche alle pazienti leucemiche di accedere a questa tecnica il futuro il futuro potrebbe essere quello di però attualmente ancora a livello sperimentale di utilizzare delle matrici che possono essere fibrina oppure possono essere degli scaffold costituiti da fattori di crescita oppure da cellule endoteliali o cellule stromali ovariche per diciamo essere la base della crescita di questo ovaio e quindi a quel punto far crescere questi follicoli in modo tale che non ci sia la necessità di reimpiantare il tessuto ma ripeto sono ancora studi a livello altamente sperimentale e ancora il fatto di mettere in coltura il tessuto questo è un lavoro uscito nel 2018 che aveva dato grandi speranze un lavoro del gruppo della Telfer e aveva dato grandi speranze perché anche se da un numero elevatissimo di follicoli erano stati ottenuti solamente pochissimi ovociti maturi quindi la speranza era di poter continuare e avere dei maggiori risultati però si è visto che anche nella review dell'anno successivo in pratica i risultati sono stati in pratica gli stessi quindi sono stati ottenuti degli ovociti che comunque non sono stati inseminati e quindi non si sa se hanno la potenzialità per diventare poi degli embrioni da trasferire in utero la nostra esperienza noi dal 2002 crioconserviamo il tessuto abbiamo i tessuti di 925 pazienti suddivise in pediatriche e adulte la maggior parte delle patologie è rappresentata dai linfomi dai tumori della mammella dai sarcomi da patologie benigne patologie genetiche e per quel che riguarda i nostri risultati in termini di reimpianto allora per quel che riguarda il reimpianto eterotopico noi abbiamo fatto 5 reimpianti 4 pazienti hanno ripreso la funzionalità endocrina pari a un 80% questi erano pazienti che non avevano interesse alla gravidanza ma che desideravano semplicemente riprendere la loro funzionalità ovarica poi abbiamo fatto invece 23 reimpianti di tipo ortotopico in 16 pazienti nell'87% dei casi è stata ripresa la funzionalità endocrina e abbiamo avuto 6 gravidanze su 13 pazienti pari a un 46% di queste 6 gravidanze 3 hanno dato 3 bambini nati una è una gravidanza in corso una è stata una gravidanza ectopica e una è un aborto alla nona settimana e adesso vorrei soffermare un po' l'attenzione su alcuni casi questo è un caso particolarissimo perché la paziente era affetta da un linfoma di Hodgkin a 38 anni si è trovata con una gravissima osteoporosi quindi siccome aveva prelevato il tessuto varico e in quel momento non aveva intenzione di avere figli ci chiese di effettuare il reimpianto il tessuto era parecchio che aveva a disposizione quindi abbiamo potuto fare due reimpianti eterotopici uno dopo 11 anni che il tessuto era stato congelato l'altro dopo 15 anni che era stato congelato la ripresa della funzione endocrina si è avuta quattro mesi dopo il reimpianto ed è durata circa sette anni quindi portando la paziente avanti nel tempo fino praticamente alla sua naturale età menopausale quindi in pratica in questo caso abbiamo fatto un HRT ma la cosa ancora più importante è che il secondo reimpianto è stato fatto dopo 15 anni che la paziente aveva prelevato il tessuto questo significa che un tessuto di 15 anni non ha avuto difficoltà a riprendere la funzionalità quindi è particolarmente importante per le bambine che prelevano a sette otto dieci anni e che dovranno mantenere il tessuto conservato per tantissimi anni quindi questa è la dimostrazione che il tessuto può essere mantenuto per lungo tempo poi abbiamo le nostre nascite le nostre tre nascite allora brevemente questa è una paziente con la prima con linfoma non-Hodgkin che ha fatto il prelievo del tessuto poi ha fatto chemioterapia e infusione di cellule staminali quindi è andato incontro a POF ci ha richiesto il reimpianto e ha avuto una gravidanza spontanea con nascita nel 2018 la seconda paziente invece con linfoma di Hodgkin ha fatto la stessa terapia praticamente infusione di cellule staminali ha fatto il reimpianto però per problemi di grave infertilità maschile è stata sottoposta a fecondazione assistita abbiamo avuto un embrione la gravidanza e la nascita nel 2019 quest'ultima paziente paziente invece è la nostra terza nuova nascita paziente con sarcoma sacrale di Ewing a 23 anni la paziente ha iniziato subito la chemioterapia successivamente abbiamo fatto il prelievo del tessuto poi è stata ha continuato la chemioterapia e anche la radioterapia quindi è andata incontro a POF ha richiesto dopo 8 anni il reimpianto dopo questo reimpianto la paziente aveva cominciato a mestruare a ovulare cioè in pratica c'era stata la ripresa di questa funzionalità ovarica purtroppo però ha avuto una recidiva della malattia quindi a questo punto si è bloccato tutto ha dovuto ricominciare la chemioterapia che è durata 7-8 mesi dopo la chemioterapia però ha ripreso a mestruare nuovamente ha avuto una gravidanza spontanea e poi il 19 di agosto di quest'anno è riuscita ad avere una bambina in buone condizioni di salute questo caso è particolarmente importante perché allora questo tessuto è stato sottoposto a chemioterapia per due volte cioè prima della crioconservazione e dopo il reimpianto quindi questo significa che se il tessuto ha una buona riserva ovarica può avere delle chance anche se lo preleviamo dopo che ha fatto qualche ciclo di chemioterapia ma a maggior ragione gli oncologi ci dicono che se noi facciamo un po' di chemioterapia probabilmente è molto ridotto il rischio di contaminazione ovarica e si riferiscono soprattutto alle pazienti con sarcoma di Ewing che sono quasi certamente costrette ad andare ad alte dosi poi abbiamo l'ultima paziente con la nostra gravidanza ongoing paziente con carcinoma della mammella questo è un caso particolare semplicemente perché aveva ripreso la sua funzionalità ovarica ha avuto una gravidanza spontanea ectopica poi ha avuto una seconda gravidanza abortito alla nona settimana poi finalmente ha avuto una gravidanza spontanea alla venticinquesima settimana quindi diciamo da tutti questi dati il fatto che con il reimpianto del tessuto ovarico noi possiamo avere la ripresa della funzione endocrina l'induzione della pubertà le nascite la sicurezza diciamo del congelamento dello stoccaggio a lungo termine e il fatto di poter utilizzare questa diciamo questo reimpianto come terapia ormonale sostitutiva beh dovrebbe farci pensare che in Italia non deve essere più considerato sperimentale questa tecnica così come non lo è in tanti altri paesi del mondo Stati Uniti compresi è logico che per ottenere dei buoni risultati è necessario applicare questa tecnica in centri specializzati dove c'è un buon counseling di tipo c'è un expertise di tipo clinico e biologico e soprattutto la cosa più importante è il network tra diciamo i professionisti del settore che devono mettere in relazione le pazienti gli oncologi i ginecologi i biologi gli endocrinologi per ottenere questi risultati grazie complimenti peraltro i risultati mi sembrano veramente molto buoni su quelli appunto di cara del visti domande prego eccolo qua complimenti Raffaella non sapevo delle altre gravidanze in Italia la situazione ad esempio a Torino hanno ancora avuto gravidanze sa qualcosa cioè sono perché l'altro grande problema scuso ti faccio la domanda così dopo mi rispondi la sperimentalità della procedura ovviamente ha dei parametri che dobbiamo prendere in considerazione c'è qualcuno che considera ancora sperimentale la ICSI diciamo per cui dipende i parametri che ci prendiamo però è sicuro secondo me che in questo caso l'accademia o i centri super specializzati in questa cosa dovrebbero fare training per chiunque voglia iniziare cioè non penso che sia pensabile come accade che uno si inventa che da domani congelo del tessuto e senza avere expertise nel prendere il tessuto forse la cosa meno difficile non lo so però poi ce lo dirà Renato è molto difficile anche quello quindi primo punto secondo punto il laboratorio vedesse arrivare del tessuto e sbattole in azoto penso che ci siano troppi posti dove le pazienti vengono sottoposte a un prelievo e a congelamento di tessuto senza potenzialità poi di successo quindi questo penso che sia l'altro problema legato alla non so se c'è un'autorizzazione però oggi si aprono centri di fecondazione assistita solo perché hanno gli incubatori e le procedure scritte quindi infatti è proprio questo a cui io mi riferisco perché l'altro centro grosso diciamo che ha avuto dei buoni numeri però si sono un po' fermati è quello di Torino loro hanno fatto 250 prelievi hanno avuto una gravidanza e poi si sono fermati cioè sembra che non abbiano più non so se interesse o se manca effettivamente chi segue il laboratorio chi segue la parte clinica allora io dico che ad esempio il tessuto deve essere prelevato con molta cautela poi è chiaro che una laparoscopia è semplice e non sono certamente io a doverlo giudicare ma io so con certezza che il tessuto deve essere trattato con i guanti perché laddove la pinza preme il follicolo è morto e non c'è niente da fare quindi io devo avere la possibilità di avere quanto più possibile il mantenimento di una buona condizione di questo tessuto e così ecco perché io dico che ci vuole un'expertise di tipo clinico e biologico perché il tessuto non deve stare in giro perché ci deve essere un controllo di qualità all'interno del centro dove viene effettuato questo trattamento e deve essere continuativo cioè non si può fare un prelievo al mese è troppo poco è come un centro di fecondazione assistita bisogna avere una continuità e noi abbiamo avuto la possibilità di incrementare tanto il lavoro uno perché ci siamo fatti conoscere due perché abbiamo anche un punto siamo a Bologna quindi un punto di riferimento molto semplice è comodo anche per le pazienti e poi perché abbiamo cercato di ampliare il più possibile questa rete con gli oncologi abbiamo un'altra domanda molto brevemente un piccolo commento in chiosa a quello che stavi dicendo e poi la domanda il commento è che a mio modo di vedere più che dal punto di vista tecnico perché un'expertise si acquisisce in termini relativamente brevi però l'importanza di centralizzare in alcuni centri credo sia il case mix tu hai una rosa di afferenti con patologie diverse hai un punto di osservazione privilegiato quando ce l'hai e in più quello che dicevi la continuità perché l'aspetto tecnico nell'una parte clinica e biologica si acquisiscono i temi molto brevi potrebbe anche essere fatto secondo me da molti centri però l'importanza credo che sia in questo punto la domanda è nella acquisizione del tessuto al di là degli stripping delle fettuccine della corticale nella preparazione succedanea al prelievo la possibilità nelle prepuberi visto la dimensione piccolina dell'ovaio di perfonderle in presoluzione parianizzata e congelarle in toto è stata fatta e se sì ha qualche risultato visto che sono bambine e l'integrità del tessuto stroma corticale potrebbe avere un valore molto forte principalmente sulla funzione endocrina ma anche gametogenica no abbiamo anche noi anche nelle bambine piccole pur avendo un ovaio minimo però facciamo delle strip intero non è stato fatto anche perché comunque sia quando il tessuto viene a contatto con i crioprotettori il crioprotettore deve entrare quindi comunque sia l'ovaio è diciamo l'ovaio della bambina è piccolo ma è sufficientemente grande per avere questo rischio cioè subire questo rischio sì ho visto scusa solo un'ultima battuta ho visto delle sperimentazioni su animali dove praticamente l'ovaio veniva portato via non deafferentando la vascolarizzazione in prossimità del polo ma molto a monte in modo tale da avere un accesso vascolare incannulabile attraverso il quale si riesce a fare sia l'iniezione del parina per rimuovere i clotting sia il crioprotettore e dopo la rivascolarizzazione veniva fatta con una navetta di peritoneo nell'ambito del quale la neovascolarizzazione si riprendeva in maniera molto questo è stato il tentativo fatto in America per congelare l'ovaio intero però il problema è il fatto che comunque bisogna perfondere il crioprotettore ed essere sicuri che vada dovunque quindi se una parte non viene diciamo in una parte non entra il tessuto degenera ecco perché poi hanno deciso di non continuare più questa sperimentazione e ancora di più nonostante tentino di provare la vitrificazione però la vitrificazione non funziona su questo tessuto se non abbiamo altre domande ne avrei una io c'è qualcun altro la mia è tecnica nel senso che qual è il criterio con cui si reimpianta in sede eterotopico o meno e se il prelievo viene fatto su uno o su tutte e due le ovaia e poi ne ho un'altra e numericamente quanti reimpianti si fanno allora per quel che riguarda il reimpianto eterotopico la scelta è sulla base della richiesta della paziente cioè se la paziente non ha una necessità di gravidanza si preferisce il reimpianto eterotopico perché funziona ugualmente bene ed è più semplice perché mettendo il tessuto nel sottocute dell'addome teoricamente non ci sarebbe bisogno neanche di addormentare la paziente quindi questo è un grosso vantaggio la seconda domanda era la seconda domanda è se il prelevo si fa su uno su ambedue le ovaia attualmente lo facciamo su un ovaio facciamo una biopsia allargata su un unico ovaio nel caso delle bambine delle prepuberi considerando che sono che le ovaio sono molto piccole e considerando anche quello che può essere il rischio di distruzione completa dell'ovaio stesso allora si preleva anche da ambedue le ovaie e il numero si predilige l'ovaio che di lasciare l'ovaio con la tuba migliore e si preleva sull'altro tendenzialmente per poi valutare eventualmente la funzionalità di quell'ovaio dopo il trattamento ok e poi si cerca di scegliere anche l'ovaio dove non c'è non so il follicolo dominante dove non c'è un corpo luteo perché tutta quella parte è una parte dove non si trovano follicoli utilizzabili ho capito questo è importante nella scelta e poi vedete il numero il numero dei? il numero delle fettine che si riempiantano ah questo allora questo lo valutiamo insieme ovviamente ai clinici al professor Serracchioli lo valutiamo in base alla densità follicolare della fettina cioè quando per problemi di velocizzazione della relazione io non ho detto che un pezzettino di tessuto viene sempre al momento del prelievo viene mantenuto e mandato all'istologia primo per valutare che non ci sia contaminazione secondo per fare una serie di valutazioni di tipo densità follicolare qualità dei follicoli e tutta una serie di altre valutazioni anche della vitalità a quel punto noi abbiamo un dato di base per cui nel momento in cui dobbiamo decidere di reimpiantare valutiamo in base alla densità follicolare di quelle fettine del prelievo fatto il concetto dei trapianti di fatto me ne metto un'altra poi smetto allora nel trapianto di tessuto pancreatico essenzialmente vi hanno utilizzato l'omento per la vascolarizzazione e per il tipo di tessuto chiaramente che particolarmente favorevole all'impianto volevo sapere se c'era un'esperienza anche sul tessuto varico nell'omento come sede eterotopica noi facciamo lo diciamo lo inseriamo facendo una piccola taschina pelitoneale ho visto sì nell'omento no no tendenzialmente o se l'ovaio è diciamo il tessuto varico rimasto è ancora ben visibile cruentiamo il tessuto varico lo apriamo a finestra e mettiamo i nuovi pezzetti sul letto del tessuto varico cruentato se non questo non è possibile si fa una finestra peritoneale e si impianta nella finestra peritoneale bene allora se non ci sono altre domande credo che noi abbiamo finito mi complimento con la dottoressa complimenti perché è veramente interessante o credo che abbiamo finito e volevo solo dire che adesso ci sarà il coffee break poi volevo approfittare per di questo di questo microfono per ringraziare Andrea Borini e Coticchio per l'invito e per aver organizzato questo congresso con grande coraggio in parte in presenza è sempre piacevole essere assieme ad altri in una sala e non davanti a un computer benissimo grazie Andrea grazie mille